Ciao a tutti, benvenuti sul canale, benvenuti in questo nuovo interattivo, io sono Morgana. Do il benvenuto a tutti i nuovi iscritti e il bentornato a chi già è iscritto da un po'. Oggi andremo a fare un interattivo un pochino, diciamo, particolare. In che senso? Come vedrete dal titolo, andremo a vedere come andrà la settimana fra te e lui. Infatti il titolo del video sarà tu e lui e fra parentesi lei. In che senso? Nel senso che il video può, diciamo, abbracciare tantissime persone essendo interattivo, sarà un interattivo dedicato alla coppia. Coppia in senso generale, coppia di amici, coppia di parenti, coppie di amanti, coppie di, diciamo, fidanzati, marito e moglie. In generale, coppie anche di conoscenti. Tu e lui, oppure lei, si intende se siete uomini o donne che mi state ascoltando. E di conseguenza ci sarà anche un tu, lui e lei se già siete, diciamo, in un triangolo. Siete voi, in base a quello che uscirà dall'interattivo, a cercare di inquadrare se risuona con la vostra situazione oppure no. Sarà un unico interattivo senza varianti perché andremo a vedere che cosa succederà in questa coppia. Infatti, io ho messo lì tu e lui, oppure viceversa se siete degli uomini. E per cercare di capire quale sarà la settimana che va dal 12 al 18 di ottobre. Come sarà questa settimana per questa coppia. Allora, prima di tutto, andiamo a prendere l'energia che ci sarà per questa settimana, per quanto riguarda lui e per quanto riguarda lei. Vediamo che tipo di energia ci sarà in lei e in lui. Anzi, in te e in lui. Allora, innanzitutto questa è la vostra energia. Poi andremo a vedere che tipo di coppia siete. E alla fine andremo a vedere quali sono i messaggi che tu diresti a lui e che lui direbbe a te. O sempre viceversa. Chiaro? Adesso andiamo a vedere anche con le mie carte delle coppie che tipo di coppia abbiamo davanti. Allora, per quanto riguarda la coppia, in genere prenderemo due carte. Uno e due. Che si inquadreranno e incroceranno con le energie. Il video non sarà sempre uguale. Di settimana in settimana andremo a vedere come sarà la settimana fra te e lui. Però andremo anche a, diciamo, modificare quali sono i tipi di energie e quali sono, diciamo, con tanti altri tipi di carte pure. Allora, innanzitutto andiamo a vedere che tipo di energia c'è in questa settimana per questa coppia. Per quanto riguarda te c'è un bel blocco. Qui abbiamo in te un blocco. Un blocco che dobbiamo vedere a che cosa si riferisce. Si riferisce a una questione, perché qua possiamo andare anche a vedere, diciamo, delle situazioni lavorative, nonché anche di amicizia, di amore, dipende sempre come il rapporto fra te e la persona, diciamo, che ti interessa o la persona che è vicino a te. Innanzitutto per te vedo un blocco in questo momento. C'è qualcosa che ti blocca, qualcosa che non ti riesce, per cui non riesci tu ad andare avanti, non riesci a, diciamo, espletare e semplificare, semplificarti la vita nel miglior modo possibile. E' vero che nella vita ci sono tanti problemi che dobbiamo affrontare, però è anche vero che molti blocchi ci, diciamo, ci frenano un pochino per poter andare avanti con le situazioni che si vengono a creare. In questo momento, in questa settimana, tu sicuramente avrai un blocco che, adesso andremo a vedere con le carte se riuscirai a, diciamo, a superare. E sicuramente è un blocco, magari, che ti porti da qualche situazione precedente o magari si viene a creare in questa settimana o si è venuto a creare in questo frangente. Vediamo lui. Lui, invece, lo vedo molto, diciamo, radicato nelle sue convinzioni. Lui lo vedo molto fermo nelle sue convinzioni. E' una persona che sa quello che vuole, è ben piantato ed è una persona, diciamo, che già ha avuto un passato e già, diciamo, è una persona abbastanza, come dire, sapiente. E' una persona robusta e devo dire che in questa settimana lui non avrà grandi problemi. Il tuo blocco potrebbe anche essere, diciamo, giustificato dal fatto che lui lo vedi proprio irremovibile su alcune situazioni, irremovibile su alcune decisioni. Perché tu lo vedi fermo, stabile nella sua convinzione, nel suo modo di vivere. E magari, se tu vuoi fare, se magari ancora siete in una fase di conoscenza, non so che tipo di... Perché ricordate che l'interattivo abbraccia tante persone, perciò siete voi a dover, diciamo, se risuona con la vostra situazione oppure no. Diciamo che il tuo blocco potrebbe anche essere giustificato dal fatto che tu vedi lui una persona abbastanza solida, una persona abbastanza matura, abbastanza imponente. Ed ecco che questo magari ti provoca dei blocchi, delle... Ti blocca... ti provoca, scusate, un freno. Vediamo qui che tipo di coppia abbiamo. Allora, fra di voi c'è abbastanza passione. Io vedo che c'è abbastanza passione fra di voi. Però vedo anche che tu sei una persona a cui piace, diciamo, starsene un pochino per conto proprio. A cui piace, diciamo, quel senso di libertà, quel senso di dispensieratezza nel dire ma se io adesso esco, mi faccio una passeggiata, dove vado, vado, basta che, diciamo, svuoto la mente dai pensieri. Ecco che qui, diciamo, c'è una forte passione che vi unisce, però è anche vero che c'è anche questa forma di tua ribellione, e forse è questo il blocco che vedono le carte, questa forma di ribellione che, diciamo, lui magari vorrebbe, potrebbe essere che lui voglia qualcosa di più concreto, di più solido, ma tu, diciamo, sei una donna molto, diciamo, più spensierata su questo senso. Ed ecco che non ti porta ad avere quell'input di creare una coppia solida. Adesso, dopo aver visto in generale com'è la situazione fra di voi, le energie, e che tipo di coppia siete, che tipo di persone siete, adesso andiamo a vedere come andrà, come siete tu nei confronti suoi e lui nei confronti tuoi. e poi andremo a vedere come andrà la settimana insieme. Allora, andiamo a vedere innanzitutto che tipo di relazione e che tipo sempre di persona e di tipo di relazione abbiamo in questo. Allora, qui, diciamo che da parte tua c'è una forte passionalità, qui c'è una forte passione, c'è voglia di iniziare qualcosa da parte tua, però è anche vero che qui tu guardi, diciamo, lontano, guardi lontano e sei guardinga, sei in una fase, diciamo, difensiva. Ecco che questo tuo blocco può essere appunto dato dal fatto che tu sei in una fase molto difensiva, perché sì, è vero che c'è passione tra di voi, è vero che a ti piace la passione con questo uomo, però tu in questo momento stai guardando lontano ed è come se in un certo senso ti stai preparando a difenderti da un qualcosa che pensi stia arrivando nella tua vita. Diciamo che qui abbiamo molte carte di azione, sei una donna abbastanza, come dire, attiva, però questa forma di, diciamo che la passionalità ti piace, però in un certo senso ti frena in qualche modo, ti frena in qualche modo perché c'è qualcosa in questa persona che magari non riesce ad inquadrarti. Allora, tu sicuramente sai che questa persona ha avuto un passato non facile. Questo, il tuo lui, diciamo, la persona a cui ti stai abbracciando in questo video è una persona che in questo periodo sta passando un periodo molto giù, è molto depresso, è molto, diciamo, non come il solito, perché qui abbiamo un passato di quest'uomo che è un passato di sofferenza, un passato di situazioni sentimentali non favorevoli. E ad esempio lui è, diciamo, stanco di soffrire per amore, ha un fardello di stanchezza emotiva e di stanchezza sentimentale che purtroppo si trascina, si trascina da una relazione sentimentale sicuramente passata. Questo che cosa ci porta a vedere? Ci porta a vedere che magari lui non è sempre come tu lo vorresti, perché tu, diciamo, nella tua vita vorresti un uomo molto più attivo, sia nella parte, diciamo, intima, sia anche nella parte attiva, nel vedere, diciamo, in prospettiva il futuro. Lui invece, in questo momento, è come se tutto quello che ha passato nella sua vecchia relazione gli ha portato una sofferenza che ancora oggi lui si trascina e ogni tanto questa sofferenza viene a far capolino nel vostro rapporto. Questo a te non piace tanto ed è per questo che si forma questo blocco in te, perché tu vedi in lui una forma di stanchezza relativo ai sentimenti e alle relazioni interpersonali che purtroppo tu non vuoi condividere. Questo è anche un po' il discorso. Tu dici, ma sì, io, diciamo, voglio vivere una vita spensierata, voglio vivere una vita per come viene, non voglio assolutissimamente prendermi carico di quello che è stato il tuo passato, di quello che è stata la tua relazione sentimentale. Andiamo a vedere se le carte ci dicono qualche altra cosa. vediamo un po'. Vediamo un po'. Dalla parte tua verso di lui e dalla parte di lui verso te. Vediamo un pochino. Allora, qui abbiamo sicuramente in te una forma di insoddisfazione. Una forma di insoddisfazione e una voglia di, magari anche un pochettino di trasgredire, ecco. una sensazione di prendere quello che si ha e di scappare, perché diciamo che questo rapporto in questo momento ti sta dando un po' di insoddisfazione. Questa insoddisfazione, anche se ti si prospetta una vita che potrebbe essere una vita tranquilla, una vita quantomeno, diciamo, da poter vivere dopo che lui ha superato i suoi momenti di difficoltà, perché in lui vedo molti momenti di difficoltà. In lui, sì, è una persona, diciamo, saggia, però è una persona saggia perché già ha un vissuto. Questo vissuto a lui lo porta a essere un pochino indeciso e lo porta a essere, diciamo, prigioniero di un qualcosa che è il suo passato, come dicevo, è una prigione dovuta anche al fatto che lui si sente questa forma di indecisione perché non sa ancora bene che cosa vuole. Ha sempre in mente quello che è il suo passato, ha sempre in mente questo fardello che si porta dietro e perciò questo fardello lo porta a essere imprigionato e lo porta a essere anche molto indeciso. Tu invece, qui abbiamo una situazione diversa perché tu, anche se ti prospetta, anche se magari lui ti prospetta una vita abbastanza agiata, qua io vedo una insoddisfazione e una voglia, diciamo, di trasgredire e di scappar via con quello che si ha. Diciamo che il tuo blocco è dovuto al fatto che vorresti, diciamo, in un certo senso anche cambiare la situazione, anche cambiare persona, devo dire. Vediamo un po' cosa ci dice l'ultima carta. Ecco che tu vorresti un nuovo inizio, tu vorresti tutto, diciamo, come un nuovo inizio, tu vorresti iniziare una nuova situazione da capo, tu vorresti avere tutto a portata di mano per poter iniziare una nuova situazione. Ma io penso che se lui invece pensa a un qualche cosa con te, pensa a un qualcosa con cui festeggiare, pensa a un qualcosa di... diciamo perché lui è convinto che è passato questo periodo tutto si sistema e tutto torna a posto. Non sai invece che da parte tua c'è proprio questa voglia di fuga, c'è questa voglia di iniziare un nuovo percorso, di iniziare una nuova situazione e non c'è in te una voglia, diciamo, di aspettare, una voglia di avere pazienza, una voglia di vedere le cose come vanno con le sue situazioni pregresse se lui le riesce a sistemare oppure no. Diciamo che tu sei una persona che vuole iniziare una nuova relazione, vuole iniziare una nuova vita, ma non vuole assolutissimamente avere dei fardelli altrui alle spalle. Vediamo se ci sarà... come sarà la vostra settimana? Vediamo come sarà la settimana fra te e lui. Questa settimana sempre dal 12 al 18 ottobre. Vediamo che tipo di settimana vi aspetta come coppia, perché questi sono i pensieri tuoi e i pensieri suoi, le emozioni tue e le emozioni sue, qualcosa che è all'interno di voi stessi, qualcosa che voi magari non manifestate all'altro. Adesso andremo a vedere come sarà la settimana fra proprio voi due. qui la settimana fra voi due vi vede impegnati in una bella forza di volontà, una forza di volontà per riuscire ad uscire da questa prigione. Questa prigione sicuramente vi deve portare, cioè l'uscita da questa prigione sicuramente vi deve portare a trovare una soluzione, a trovare una soluzione a questa vostra problematica, soprattutto alla tua problematica, soprattutto alla tua problematica perché diciamo che il tuo intento è appunto di riuscire il più velocemente possibile in questa settimana per, diciamo, c'è una minima forza di volontà, una minima forza di volontà da parte tua di riuscire ad uscire da questa prigione però proprio in un lasso di tempo molto molto veloce. Nel senso, tu pensi o questa situazione si sistema in questa settimana oppure io comincio a guardarmi altrove perché la mia insoddisfazione è troppa e cercherò un nuovo inizio magari iniziando dal campo lavorativo, cercherò di guardare lontano a livello lavorativo in modo che posso divincolarmi da questa situazione che mi sta proprio stretta. Questo, diciamo, è una settimana un pochettino decisiva per questa coppia, una settimana un pochettino decisiva perché la vede proprio alla conclusione di tutto quello che c'è stato fra lui e lei. In che senso? Sì, ci sarà un minimo di diciamo, un minimo di forza per tentare di uscire da questa situazione, da questa forma di prigionia, da questo blocco come ci dicono le carte all'inizio. Però è anche vero che se questo non avviene in modo molto rapido, tu sei, diciamo, molto, diciamo, propensa a guardare oltre perché questa insoddisfazione non ti va più bene e allora sei propensa magari a guardare anche la parte, diciamo, anche avendo una scusa nella parte lavorativa, ecco, perché magari tu tramite il lavoro riesci a trovare la scusa con lui per poter, diciamo, divincolarti da questa situazione e potrebbe anche essere che in questa settimana ti capiti questa opportunità, ti capiti questa opportunità di avere, diciamo, una notizia lavorativa che ti possa far prendere due piccioni con una fava. In che senso? Migliorare in campo lavorativo ma anche divincolarti da questa situazione sentimentale che proprio non riesci più a sostenere. Andiamo a vedere cosa ci dicono le sibille e poi andremo a vedere i messaggi. Vediamo un po'. Sempre questo per quanto riguarda la vostra settimana, eh? Infatti qui le carte mi portano sempre una questione di prigionia, eh? Allora, qui abbiamo a che fare con questa situazione che è diventata proprio insostenibile. Voi volete sicuramente una rinascita, volete una rinascita e questa prigione non vi va più bene. Sicuramente, diciamo, è diventato troppo, per voi questa relazione è diventata troppo stretta, avete bisogno di un inizio e questo inizio ve lo può dare semplicemente una scappatoia nel campo lavorativo perché di fondo lui come persona non vi dà tanti problemi, lui come persona non vi dà delle scusanti per interrompere il rapporto. L'unica situazione che voi potete andare a cogliere è la situazione lavorativa che vi può portare magari lontano da lui e vi può portare in un'altra situazione in un'altra città che vi può diciamo trasferire e trasferendovi diciamo allontanare questo soggetto che magari sì è un soggetto che magari a voi piace è una situazione che magari per certi punti di vista vi piace però non volete avere a che fare con niente che sia legato a quello che lui ha vissuto adesso andiamo a vedere lui cosa vi direbbe vediamo un po' cosa vi direbbe ti penso controllo ciò che fai mi sento legato a te perciò lui diciamo che in un certo senso si è un pochettino legato in modo un po' morboso perché ti penso controllo ciò che fai e mi sento legato a te perciò lui ha proprio questa forma e di diciamo come se lui nella sua mente avesse già un rapporto definitivo con voi è come se lui già si vedesse accasato con voi perché vi pensa sempre magari controlla ciò che fate nel senso non che vi controlla per quello che fate per quello che potete fare ma nel senso che è un po' diciamo morbosetto nei vostri confronti per sapere quello che state facendo quando non siete con lui vediamo voi cosa direste a lui vorrei vorrei che affrontassimo le difficoltà insieme le difficoltà per questo problema che voi non vi sentite più diciamo in connessione con lui sono delusa da te e la tua indifferenza mi fa davvero male nel senso la tua indifferenza perché voi sicuramente vedete che lui si diciamo infervora ancora lui ancora sta male per questa situazione del suo passato che magari per alcuni di voi magari è già anche chiusa ma è semplicemente lui che rimane ancora legato per altri di voi potrebbe anche essere che è stata una storia che per lui è stata importante ma che non la riesce a dimenticare ci sono tante sfaccettature che si possono vedere in una in una stesa del genere la tua indifferenza mi fa davvero male è perché vedete che lui non è con voi come era con la sua ex e perciò questa sua indifferenza vi fa male siete delusa da lui siete delusa perché magari lo vorreste diverso lo vorreste più più passionale lo vorreste più meno diciamo depressino ecco tutte queste situazioni qua vorrei che affrontassimo le difficoltà insieme in che senso vorreste non affrontare le sue difficoltà ma vorreste affrontare le difficoltà che c'è nella vostra di coppia perché lui diciamo non si rende conto che nella vostra coppia c'è qualcosa che non va per lui va tutto bene per lui siete voi quella che sbagliate voi quella che non siete più la stessa invece voi nel contempo state guardando altrove state guardando più lontano più lontano perché avete intenzione di ricominciare avete intenzione di ricominciare lontano da lui perché come ripeto questa sua forma di insoddisfazione questa sua forma di difficoltà a slegarsi dal passato vi ha proprio stancato e annoiato bene questo è il primo video diciamo di questa settimana per quanto riguarda tu e lui o lei qui è quello che accadrà in questa coppia che può essere una coppia svariata in tanti modi siete voi a dover collegare in modo adeguato alla vostra situazione quello che è stato detto se risuona con voi se non risuona lasciatemi un commento se vi siete ritrovati in questa in questo video in questa stesa che abbiamo fatto allora io spero che questo video vi sia piaciuto sia stato di vostro gradimento che questo nuovo tipo di video vi piaccia se vi piace iscrivetevi al canale e lasciatemi un like e fatemi sapere nei commenti se vi piace questo tipo di video se vi piace questo tipo di interattivo e soprattutto se alcuni di voi si sono ritrovati in parte in tutto o magari ne ha anche per niente io vi ringrazio per averlo visto fino alla fine ci vediamo al prossimo video e con questo tipo di video ci vediamo la prossima settimana grazie ancora e a presto